Questo, questo e questo. Sono solo gli ultimi tre incidenti che si sono verificati nell'ultimo anno nello stesso tratto, quello di strada per Montecchio davanti al civico 21. L'abitazione in cui vive dal 2014 la signora Barbara, che da otto anni vede ripetutamente davanti ai suoi occhi innumerevoli episodi che mettono a rischio la sua incolumità e quella della sua famiglia. Purtroppo io non posso neanche più stare a fare un accamminato, arrivare in macchina davanti a casa mia, perché mi ritrovo sempre in macchine che mi vengono adosso, come l'ultima qui, che è partito il muretto dalla velocità, non lo so dovuto a che cosa, però mi hanno buttato giù per l'ennesima volta la recinzione e per poco non arrivano pezzi adosso a mio marito. E' la seconda volta, il primo bonus me lo sono giocato io, il secondo mio marito, il terzo non so come andrà. Il comune di residenza della donna è quello di Tavuglia, ma il tratto di strada, teatro di numerosi incidenti in questi anni, è di competenza della provincia. Ho segnalato questa cosa alla provincia, niente, è stato fatto niente, segnalato in comune, niente ancora. Io non so più come fare, non sono più tranquilla dentro casa mia e ho paura. Paura e scontri generati dall'alta velocità con la quale i conducenti guidano i loro mezzi e la reasfaltatura della strada, la costruzione di una rotatoria o il posizionamento di un autovelox potrebbero smorzare il pericolo. L'incrocio che secondo me da ignorante non è più a norma, perché comunque sia fanno difficoltà a vedere, però mi è stato risposto che la rotatoria per il momento me la posso scordare e quindi non so se aspettano qualche morto, qualche epper, poi convincersi che è pericoloso. Anche l'autovelox ma fisso, non quei box che poi non li mettono mai. L'asfalto, io sono dal 2014 che sono qui, non è mai stato fatto, mai. Appena le righe, perché mi sono arrabbiata che qui abbiamo nebbia, quindi quelle le hanno fatte, però c'è l'asfalto finito. Io non riesco neanche a uscire di casa, perché purtroppo non vedo. Mi è stato risposto che se era molto pericoloso, loro me lo chiudevano. E io sono dovuta purtroppo stare zitta, perché se veramente me lo chiudono, io da dove esco di casa? Ho detto di mettermi uno specchio, me lo dovevo comprare da sola. Forse loro lo venivano a montare. Io adesso, anche a stare qui adesso, io ho paura. E non è possibile aver paura di stare. Io ho una mamma che non riesce a camminare bene, la faccio scendere sempre davanti al cancellino. Non posso più farlo, perché se mi va fuori strada una macchina, come l'ultima, che mi è passata due millimetri dal cancellino, nella massa.